Buonasera, buonasera a tutti, sono Luca Carbonelli, la faccia del caffè che avete bevuto ieri ed oggi qui a Toscana Lab. Buonasera, io sono qui a testimoniare come per noi, per la mia azienda internet e la comunicazione digitale sia stato un punto di svolta per quella che è stata ed è tuttora l'attività aziendale. Voglio farvi partire da un annesso principale che è la filosofia della crisi di Einstein, in quanto io credo che tutto parta dalla presa di coscienza della crisi, chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato e questo sia per l'individuo che per l'attività aziendale. Noi siamo un'azienda che è nascita nel 1981, ma fino al 2006 praticamente eravamo come fermi e bloccati, senza strategie di mercato, senza un effettivo sviluppo produttivo. Successivamente forse siamo stati anche travolti da quelli che erano gli investimenti dei nostri competitor. La nostra parte è come una piccola media impresa standard, dove il fondatore praticamente ha svolgito tutti e quattro ruoli principali, dall'imprenditore rappresentante al fattorino fino ad essere mediatore tra i clienti e i fornitori. Quello che abbiamo sempre voluto far restare costante è la struttura familiare della nostra azienda, dove ognuno di noi ha saputo svolgere il proprio ruolo e si è specializzato in questo. E soprattutto la fattura artigianale del nostro prodotto, un prodotto che ci contraddistingue dagli altri per la tostatura a legna. A un certo punto ho preso coscienza del mio ruolo nell'azienda, mi sono posto una domanda, quale fosse la mia virtù? Venendo da studi di comunicazione credo che il valore aggiunto che potevo offrire sarebbe stato quello di poter comunicare al mondo la nostra esistenza. Ho fatto tutto ciò prendendo in esame quello che è un concetto principale che ho portato avanti, quello dell'intraprenditore, trasformando l'impresa ad intrapresa. L'intraprenditore è la somma di sette elementi portanti che racchiudono praticamente l'equilibrio tra creatività e razionalità. Sono partito dando un nuovo packaging ai nostri prodotti di punta, portando avanti nuovi prodotti, utilizzando nuovi strumenti per rendere più funzionale la transazione tra il cliente e il produttore e soprattutto cercando nuovi mercati, dove per nuovi mercati intendiamo il web e soprattutto l'e-commerce. Siamo andati ad approcciarci a quella che è la piattaforma di e-commerce per antonomasia che è ebay, studiandola nei minimi dettagli e approfittando dei limiti e delle potenzialità dei nostri competitor per farne un nostro vantaggio. Da qui abbiamo appunto creato il nostro negozio ebay e abbiamo avuto tre punti fondamentali da portare avanti, che è la passione per il canale dove andiamo a proporci, la professionalità con la quale lavoriamo sin da tempo e la qualità dei nostri prodotti sempre costante. Successivamente da e-bay abbiamo ricevuto la qualifica di power seller, che è appunto la carica che e-bay riconosce ai migliori venditori professionali e questo viene attestato ai nostri feedback tutti positivi in 4 anni, 5.000 in verde positivi e 0 negativi. Ulteriore fonte di soddisfazione è appunto un'analisi delle vendite dettagliate del nostro progredire su e-bay diciamo. Prendendo in esame tre mesi casuali della nostra attività negli ultimi tre anni possiamo notare la costante degli oggetti venduti mensilmente. Tutto questo ci ha portato a diventare migliori venditori della piattaforma, proprio per la categoria piccole e medie imprese qualificate da e-bay dedicandoci proprio una vera e propria pagina alla nostra azienda. Attualmente possiamo dire che il nostro mercato principale è comunque il web e lo possiamo vedere da questo grafico dove appunto notiamo che anche i distributori e concessionari sia in Italia che all'estero nascono anche grazie e soprattutto allo strumento che è il web, è quello che riesce a proporci e a promuoverci in tutto il mondo. Una volta presa coscienza appunto della nostra potenzialità non ci siamo voluti più avvalere di un semplice gestionale ma abbiamo installato come programma software SAP che è appunto un ERP che è acronimo effettivo della pianificazione delle risorse di imprese sia dal punto di vista produttivo che della distribuzione. E attualmente sul web siamo presenti con i nostri due siti, quello istituzionale che connota appunto il nostro stile la tradizione e la qualità del nostro prodotto e quello e-shop dove andiamo a proporci emotivamente e professionalmente ai nostri clienti. E appunto nella pagina e-shop trovate anche l'icona Facebook e non so dove è il signor Facebook, non credo sia una cazzata per chi vuole far business sul web online. Qui noi diamo non solo la possibilità di approcciarci al nostro brand, alla nostra azienda ma anche proprio all'identità, al profilo personale. Qui appunto avreste dovuto trovare se fosse stato Lavazza o Bonolis o Baudo se fosse stato Kimbo a promuovere i propri oggetti mentre grazie forse a Facebook e a tutto ci sono io in prima persona a promuovere quello che è il mio caffè che avete anche assaggiato per qualsiasi dubbio o domanda mi potete fare tutte le domande. Al momento appunto nel 2010 grazie a internet e alla comunicazione digitale possiamo dire di aver trovato una nostra identità e da ora deve entrare nell'immaginario collettivo il claim che appunto se è espresso è Carbonelli. Volevo infine salutarvi appunto rimandandovi anche alla prima slide quella della crisi con tre punti che sono stati delle linee guida per la nostra esperienza che è il primo, conosci te stesso, individua la tua virtù successivamente e falla esplodere nel mezzo e col canale meglio conosciuto. Grazie. Grazie mille. Grazie mille.